Dopo aver applicato la base smalto su tutte le unghie ho fatto un monocolore azzurro Adesso con uno smalto bianco creo la sagoma di Charly Ora sopra lo smalto bianco applico un rosa chiaro, un rosa nude Adesso con uno smalto nero e l'aiuto di un pennellino a punta sottile creo i particolari di Charly Ora sempre con lo smalto bianco creo la sagoma di Snoopy Ora sempre con lo smalto nero, l'aiuto di un dotter e l'aiuto di un pennellino a punta sottile creo i particolari di Snoopy E questo è il risultato finale Spero con tutto il mio cuore che vi piaccia Come sempre in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate E se vi fa piacere lasciate un mi piace a questo video e condividetelo sui vostri social Un bacio grande E ci vediamo molto presto con tantissimi nuovi tutorial Ciao Ciao